Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dark Knight Scorso episodio abbiamo fatto dei fornaci giganti Eccole qua, Blast Furness Quelle per il Qualcook E poi la Rolling Machine Oggi signori e signori faremo il Jetpack Allora, Batbox Servono 3 R battery E una Copper Cable Quindi 3 batterie per il momento Poi 4 Refinet Iron Un Advanced Circuit Che si fa con un circuito e copper roba strana Allora, dicevamo Facciamo qua Abbiamo una marea di gomma Ci serve il rubber Cioè, il rubber e la gomma Ci serve il copper Sono tutto fuso oggi Allora, Copper Non troppo Diciamo che ne so 18 Ok Oh, ci ho trovato dell'oro ragazzi Grazie signore, grazie Facciamo subito l'upgrade Allora, dai Di quella chest con Però non ci ho trovato ancora diamanti Mi fa incazzare Silver to gold Eccolo qui 4 Ori Un Silver E 4 vetri Aspetta, com'era? Si Allora 4 vetri 4 Ori E un Silver Silver non ci manca di certo Se voi schiacciate la C sulla Minimum Stone Vi da una crafting table Vi da una crafting table Col cazzo vi da la crafting table Aspettate Schiacciate C E vi da Abel waypoint Schiacciate ancora C Cioè Uscite questo E vi da la crafting Allora Dicevamo 4 di questi 4 Ori E un Silver Silver to gold Guardate Adesso è così Adesso è Così E vai Quindi ora Prendiamo tutte le nostre cobblestone E la svuotiamo di nuovo là dentro Poi potremmo anche ingrandire questa qua E però ci servono 8 Ori E quindi ce ne serve Ce ne serve una quintalata d'oro E potremmo anche fare quella di diamante Se ci arrivassero i diamanti Solo che questo cazzo di guerri Madonna Si mi chiede Guardate È quasi piena Di nuovo Non è possibile O che cazzo Cazzo ci fa soragna qua La stronzo E che cazzo Voi non potete uscire da qui Ti conosce nessuno Ma che palle Vabbè Facciamolo sto cazzo di JPEC Dicevamo Allora Un Advanced Circuit Facciamone un po' Copperchable La valanga 30 Dai basta così Posto 30 Allora si fa così 2 Redstone Refine d'Iron Dove? Qua Poi ci serve Glowstone se non sbaglio Aspettate Mettiamo Jetpack Jetpack Allora Vance ci servono Ehi Glowstone Restore E i lapislazuli Qua cosa abbiamo Restore Ci servono Glowstone E i lapislazuli Andiamo a prendere Glowstone Non prendiamo le 9 tanto La pisa Abbiamo solo 7 E si perché Per fare le luci blu Queste qua Ne avevo usate un bel po' E quindi Poi mi ricordo anche Per colorare questa qui Ne avevo usato uno Quindi si Allora Dicevamo Com'è che si faceva L'Advanced Due lapislazuli Quattro Restore E due Glowstone Due 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 Quattro Restore E questo qui L'Advanced Poi ci serve Una Batbox Che si fa Con tre batterie Facciamo tre batterie Uno due tre Uno due tre Uno due tre Uno due tre E tre Di questi Tre Quattro batterie Va bene Fate quattro Uno in più Poi Batbox Serve anche legno E un altro Copper Cable Ciao Uno due tre Copper Cable E legno Voilà Batbox E ferro rifinito Se non sbaglio Quattro E due Glowstone Oh Giusto quattro Che culo Questo qui Batbox E Glowstone Abbiamo il Jetpack Si mette qua Al posto del coso E con questo si vola Però adesso è scarico Andiamo a caricarlo E contiene Trentamila Trentamila Oh madonna Come cazzo lo carico io sto coso Lì ce n'è quattromila Aia La faccenda si fa grigio Ehi Non scattare Ma è capo Allora So come cazzo farà a caricarlo Ma vabbè Lasciamolo qui Posiamo intanto Un'altra roba Non ho idea Di come si possa caricare Non cosa da qua Ma che cazzo Ma Ma uscite da qui voi figli di puttana Come fate a uscire eh Me lo dite che siete bloccati qua Brutti stronzi Esci Esci Ah non esci più eh Vabbè Dicevamo Scusate lo sclero Altra cobblestone Qua Unchia Speriamo non si metta a uscire tutto quanto Qui ce lo segniamo Ah cobblestone tipo 2 3-4 stack ancora Sì 4 stack Li regge Vediamo se Quanto ha caricato il jetpack Non credo che ci serva tutta la Piera potenza eh Per usarlo Allora Ah l'ha riempito Ah è 40.000 Non 4.000 Sono imbecile io Scusate Abbiamo il nostro jetpack Allora Vi inizio a dire che il jetpack E' difficile da usare Perchè il jetpack Adesso Provo a usarlo e vi dico Aspetta un attimo Minchia che lag I zombie Minchia Vedete che trovo pure pure due Waypoint Waypoints Così Remove Remove Ok back Ah se voi schiccate barra spaziatrice Oh madonna Però appena lasciate Vedete che vi fa scendere E quindi son cazzi Il problema che se scende di botto Voi vi fate male Cioè vi uccidete Cosa devo fare In poche parole Devo andare in fondo al query Qua Oh madonna Qua mi suicido Cazzo Piano 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 Ok Guardate Ha praticamente finito Cosa faccio adesso Io ripulisco Tutto quello che non ha preso lui Qua Vedete Perchè è arrivato alla bedrock Che si è fermato Perchè è vero che ha un piccone di ossidiana Cioè ha un piccone di diamante che rompe anche l'ossidiana Però non è che rompe la bedrock Aia Vedete avete stare attenti che anche involontariamente rischiate di volare E se poi vi sfracellate Vi fate un macello male Allora Carbone Questo è il tungsteno Che nella vecchia versione valeva due diamanti Adesso che non c'è più la transmutation table Non so che cazzo può servire Ma vabbè Ferro Vedremo qua cosa serve Sto tungsteno Cos'altro c'è? Capislazzoli Si solo che Non riesco in volo Dovrei fare così Uno Due Visto che ne avevo pochi Prendiamo questi Et voilà Poi Qua Alluminio Poi Certo c'è qua Ah il Mozart Mozart Come cazzo le ti chiamare Mozart Monazit Oh my cazzo Si chiama Monzanit Eccolo qua Poi Andiamo di là Guardate C'è la redstone Lì La mila redstone Quel quarry Ha praticamente finito Ecco qua Però diamanti è ancora niente Eh O sono io sfigato Che non becco mai diamanti Oppure non lo so Il problema è che senza diamanti Ragazzi non si può fare proprio niente Orvi niente Quindi poi devo vedere Se è meglio andare io in caverna E trovarli Che altrimenti Poi Dicevamo Si Ragazzi non è che cosa Oh no 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 Allora Mi è venuta un'idea Vediamo la cobblestone Vogliamo un attimo E E No 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 Cazzo Mi giuro Mi giuro che è difficile Fermarsi a mezz'aria Perché va su e giù No ma solo due Mi prendi per il culo Però dai Allora Tin Silver Così blu Oro Altro oro Via Cioè credo che sia oro Quello Fai magari se copermi il cazzo Vè 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 Ok Si fa Bastava uno Cos'è Spero sia oro Ragazzi Gold ore Si E oro Vai così Oro 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 Dammi oro Dammi oro Dammi oro Questi qui bianchi E Questi qua neri Mi servono per il pavimento Ok Abbiamo preso l'oro Togliamo Pure il ferroso Togliamo questo qui Oh Ok Questo qui Togliamo Ahia Che dolore Ah Qua Mi ha indicato uno smeraldo Vi ho preso Sei ori Ok Lì ce ne fa dodici Poi Vediamo un'altra cosa Che si potrebbe fare Insomma Diamanti Niente Guardate È arrivato alla bedrock Anzi Ora dovrebbe ritornare su Vediamo cosa ha raccolto Guardate Solo flint E cobblet Ora dovrebbe tornare Vediamo Se torna su Torniamo su Pure noi con lui Eccolo qua Eeeh Siamo più veloci noi Ah 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 La faccia tua Ehm 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 Buttiamoci in acqua Così non ci facciamo male Ah Ok Questa È difficile da usare Sembra una cazzata Ma Controllate Controllate poi Ogni tanto la batteria 23000 Ok Ecco qua Sta scaricando 13615 Ok Ora Prendiamo Eeeh Togliamo da qui Ok Togliamo l'ender chest E adesso Spostiamo Questo affare O lo spostiamo Di là Che direi che la cosa è migliore Così magari ci taglia anche un po' di legno Cosa ne so Che ne so Logari taglia anche gli alberi Speriamo Allora Qua E' l'ender chest Da qui Giusto Adesso Vediamo prima pure il fuel Quanto ne ha Fuel Non so se andarlo a ricaricare 13000 Si Forse è meglio andarlo a ricaricare prima Uè Vediamo Vediamolo prima a ricaricare Ah qua possiamo posare la nostra roba Che abbiamo scavato noi Dai Un steno qua Carbone Qui lo posiamo a mano noi Wow Guardate come volo Volare Oh oh Cantare Oh 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 Fammi sfracello Un chiacchie lag Ok Uff Uff Mettiamoci un carbone Così possiamo posare anche il tono steno L'altro carbone E' questi qui Questi sei ori Vi faccio vedere una cosa Faccio vedere una bella cosa Stoppiamo un attimo Mettiamo questi sei ori a friggere Faccio vedere una bella cosa Che forse voi non sapete Faccio solo con l'oro Ma Non c'è mai corrente In questo cazzo di posto Andiamo a prendere i blaze rot Si viene a prendere i blaze rot No non mi dire che E' piena E' piena Porco giuda E' piena Allora Andiamo ad alimentare i generatori Dai non laggare 16 16 16 E' 16 Abbiamo spento questo qui Così non va di là Ora Qua c'è anche Il ferro Ottimo Voglio far vedere una cosa Questa gold dust Se noi la mettiamo Non dentro la fornace Ma In questo induction smelter Ci da 3 ori C'è Una No Due polveri ci da 3 ori Quindi Erano 6 E ne abbiamo 12 Se cuociamo questi 12 Ce ne da 12 Se li cuociamo là dentro Ogni due polveri ce ne da 3 Quindi Ce ne da 18 6 in più In sostanza Su quello li attiviamo Andiamo qua Giusto Ah no Non era con questo Era Aspettate un attimo Maceratore Scrubbox No Aspettate un attimo No Mi ricordo che Si poteva mettere Anche le luce Un'elter Ah Forse ho capito Ragazzi Non con la sabbia Però Serve Un'altra cosa Che è Questo qui Rich Slug Aspettate Vi faccio vedere Se non sbaglio Serve questo qua No Ho solo un ricoglionito Io Allora Per fare Goldingot No Non si poteva Anche fa Come dicevo io Non accette Oh Pulverizer Così Crafting Così Maceratore Rolling machine Monion Carpenter Sul forge Pulverizer E torniamo al punto di partenza Oh ma allora Sono un coglione io Non è possibile Va a vedere una cosa Se io schiaccio qui Con il goldore Ne fa due Vabbè Sono incoglionito io Allora E mettiamo tutto Com'era Qua volta Quando ci sono i forci Comunque vanno direttamente Di là Dopo ragazzi Si rivelocizzano Andate io solo un attimo Tanto vi sta facendo l'oro Finalmente un po' d'oro Ragazzi Finalmente Dobbiamo ancora Farsi qui Qua sta andando Ok E io direi che Aspetta Dobbiamo caricare Questo cazzo di cosa Allora Lua Turn Turn Left Left Chiusa chiusa No Turn left Punto Turn Left Chiusa chiusa True E true Ok Exit Reclear Toglio tutta sta merda Ok Fuel Ok E sta Caricando Io direi che per questo episodio è tutto Ragazzi Aspettate Mettiamo un po' di carbone Madonna 8 carboni 8 carboni Sì Dove cazzo guardo 8 8 8 Voilà Ah Quindi con 8 più o meno ce ne fa 1 ce ne fa 2 più o meno Minchia Serve un casino di poco Allora Sto odio Poi vedremo cosa farne Allora Ah si Quindi per questo episodio è tutto Da Dark Knight è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti